Sul pratico, vorrei vedere Portas alle prese con il PIN online e il PIN dell'Inps. L'Inps è un'altra cosa, ma ovviamente poi la pubblica amministrazione deve facilitare, insomma, no? E poi ci sono molte altre cose che riguardano l'argomento di prima, cioè Renzi e dintorni. Va bene, allora... Posso solo dire una cosa, guardate, su due cose? No, però diciamo prima, sentiamo la senatrice e poi... Scusa, scusa, scusa. Allora, io sono la testimone, mi vengo, ho provato a fare il PIN, ha ragione perfettamente la signora che ha scritto prima. Non sono per mio padre, no? Che probabilmente era stato inviato, però poi non gli è arrivata la seconda parte, insomma. Quindi ho provato a rifare e ovviamente come si fa? Si va sul sito dell'Inps e si fa... aspetti... Non dire sito dell'Inps, per favore, non dirlo perché stai dicendo un'altra cosa. Sto facendo un esempio... Sto facendo un esempio dell'Inps, stai facendo un esempio dell'Inps. Allora non parliamo più dell'Inps. Scusa, no, adesso... No, faccio un esempio sulla certificazione della vita. Detto questo, se lei ha... Datemi del tu, dai, mi dai del tu prima, dai, se tu hai... Non perché sei davanti a te, mi dai del lei, dammi del tu. Però possiamo dire qualcosa? Posso fare una domanda? Che arriva, no, no, io non ho parlato. Ma possiamo dire l'esperienza? Voglio sapere, se tu hai il pin dell'Inps, ce l'hai? Sì. Allora sai perfettamente che se entri col pin dell'Inps e puoi accedere anche all'agenzia dell'entrata e una serie di altre cose. Ma no, ma fai una brutta figura se dici questo, per favore. Ma lo dico per te. Ma no, ma guarda che puoi andare benissimo. Ma te lo dico per te. Non lo sai che ti puoi fare un supermercato. Non lo dico per te, polemica sul pin che io capisco perché è complicato. Non fai una bella figura a dire questo. Voglio sapere... Stai parlando, stai parlando di cartelle datoriale Equitalia. Te lo dico per te. No, io so di che cosa sto parlando. Allora... Se mi fai finire e ti sto parlando del fatto che comunque... Non ti arrabbiare, sai. No, mi arrabbio. Ma stai parlando di un'altra figura? Perché la vita delle persone... Ma fai una brutta figura. Si sta a massacrano, la brutta figura la fai tu. Diciamo che è complicato. Evidentemente non fai una vita normale. Tutti io intervenivo sui commenti dei telespettatori. Allora, vorrei che la mattina, magari di notte, potresti andare a Roma, a Equitalia, a portare un po' di caffè... Stai parlando di Inps e Equitalia. No, no, no. Sto parlando del fatto che tu... Inps o Equitalia, perché se no dici Inps e Equitalia... Sto facendo due esempi. Due esempi. Sto facendo due esempi su un tema su cui per quattro anni ci avete, tu, la madia e compagni, sulla semplificazione della vita delle persone. Questo per dire che non è così. E quindi anche l'accesso, ahimè, e quindi ti dovresti documentare, al meccanismo della rottamazione... Ecco, parliamo di Equitalia. E' molto complicato. E' complicato, bravo. E per le persone... No, guarda, Portas, stai attento a come parli, perché io sono una persona molto civile, ma non accetto ironia. E parlo di quello che voglio. Perché io faccio una vita normale, evidentemente, al contrario di te. Quindi mi devo occupare di tutti gli aspetti normali. E dico anche, per poter avere le informazioni, andare lì... E quello che mi ha colpito, quando sono andata a Equitalia, è anche una specie di clima di... Di angoscia. Di angoscia e di rassegna. Sì, non è proprio... Allora, mi ha colpito personalmente. Mi ha colpito personalmente con migliaia di persone... Non governa la sinistra, governa qualcos'altro, la signora... Di angoscia e di persone che stanno lì, che vanno alle due e alle tre. Non lo so chi governa. Non di notte il bigliettino, come no, il numerino, come no. E questo è il problema. Allora, perché non funziona. Detto questo, quindi io credo che bisogna... Si è caricato su tutti gli interessi, le persone... Sì, sanzioni. Quindi va benissimo, va benissimo, va benissimo, che si fa un'operazione. Però io credo che, siccome la maggior parte delle persone sono finite in quella situazione, non perché volevano evagli, per la crisi, per tutto quanto, bisognava trovare, a mio avviso, delle vie molto più semplici e più chiare di accesso. Però sei d'accordo? Allora, questo posso dire, però bisognava trovare delle soluzioni. Poi bisogna sempre evitare, chiudo davvero, che poi si finisca, diciamo, nel fare condoni mascherati. E questo è un altro punto che poi... Bergamini, allora, però mi pare che parlai di questo fatto, vuol dire parlare dei problemi della gente. Non è che stiamo parlando di alta filosofia. Vuol dire parlare, o almeno tentare di parlare, perché questa sinistra che, insomma, si agitano, litigano, va bene. No, 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 va bene, è una contraposizione. E la dialettica politica, non sto dicendo che ci stiamo scazzotando, insomma.